Un monito all'umanità, incapace di imparare dagli errori del passato, così cieca e sorda di fronte all'atrocità di cui è lei stessa responsabile, da rischiare l'autodistruzione, lasciandosi alle spalle solo calcinacce e macerie. Una riflessione profonda sul genere umano sotto forma di installazione. È quella presentata in occasione della 28esima edizione del Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria dall'artista tranese Dario Agrini. L'opera, collocata in Piazza Catuma, si intitola Madre Natura. Madre Natura è un'opera di critica, è l'idea che dovremmo iniziare ad utilizzare la storia come uno strumento di prevenzione, visto che sembriamo aver completamente dimenticato i gesti e le cose terribili che abbiamo fatto durante la nostra esistenza, ma non l'esistenza mia, ma l'esistenza del genere umano. Continuiamo a ripetere praticamente gli stessi errori. Il genere umano, essendo frutto della natura, potrebbe essere considerato a questo punto uno scherzo della natura, quindi un errore della natura perché siamo gli unici a non essere alla fine lungimiranti. L'installazione raffigura una bambina che piange disperata su di un cumulo di macerie, un chiaro riferimento agli orrori della guerra che come sempre conta tra le principali vittime, gli indifesi e gli innocenti. È un'opera dedicata a tutte le guerre, non ci sono guerre giuste, c'è tutto per tutti in abbondanza, ma come si dice tanto a pochi e poco a tanti alla fine, quindi noi si parte da questa idea malsana di non voler assolutamente migliorare e avere questa tendenza alla totale di distruzione finché a un certo punto rimarremo con delle pietre in mano, quindi rimarremo così azzerati con nulla intorno, nulla per nutrirci, nulla per andare avanti e fine dei giochi. Dopo Sofisma, Voli Pindarici e Golem, Dario Agrimi torna con una nuova opera e per il terzo anno consecutivo al Festival Internazionale Castel dei Mondi, ormai quasi un appuntamento fisso per l'artista tranese. Ringrazio la direzione del Festival e chi ha deciso di permettermi di realizzare anche quest'anno un'opera. Sì, sono grato alla città di Andrea e a tutti gli andriesi, nessuno escluso, anzi anche quelli che fanno delle critiche negative perché non esiste pubblicità negativa, l'importante è che se ne parli.